Credo di sì, credo di sì. Come ci stiamo preparando? Ma innanzitutto le attività sono quelle tutti i giorni, quindi certamente c'è un problema di sicurezza per il Presidente che ha espresso la volontà di visitare la pediatria, innanzitutto con i bambini. Ma hai detto perché la pediatria? E' evidentemente perché i bambini affetti da malattie sono un punto sensibile, quindi per tutti quanti credo sia semplice esprimere questa volontà perché tutti quanti, quasi tutti, desiderano vedere il reparto pediatrico. Un bel momento per il nostro ospedale? Ma sicuramente noi le siamo grati al Presidente Conte che in occasione dell'incontro che farà con i sindaci successivamente ha espresso la volontà di visitare il nostro ospedale. Per noi è un momento comunque di attenzione, è un momento diciamo in cui anche di far accendere i riflettori sul nostro ospedale. Sappiamo insomma che comunque si lavora all'interno di questo presidio ospedale, ci sono delle difficoltà ma c'è un personale medico e paramedico che comunque ogni giorno ecco con dedizione e abbenegazione lavora in questo ospedale. Se avesse la bacchetta magica al Premier Conte cosa vorremmo chiedere oggi? Se avesse la bacchetta magica al Premier Conte noi chiederemmo innanzitutto di dotare l'ospedale tutto quello che necessita perché l'ospedale riguarda la salute, riguarda l'organizzazione e soprattutto la garanzia dei vari percorsi dell'emergenza per tutti coloro perché è giusto che un cittadino italiano ovunque ci si trovi debba essere assistito come tutti gli altri cittadini del suo italiano. Noi chiederemmo al Conte soprattutto nel patto per il Sud che dovrà essere sottoscritto di dotare il Cilento finalmente come strategia che possa rientrare in una strategia nazionale di dotare delle infrastrutture essenziali di cui noi abbiamo bisogno. Uno dei problemi che teniamo è legato alla disoccupazione però a livello delle disoccupazioni si può interagire soprattutto risolvendo problemi strutturali che teniamo e combattendo anche lo spopolamento e sono quelle le infrastrutture più importanti come l'arteria Vallo-Atena-Lucano che è fondamentale oppure il prolungamento della tangenziale da Ponte Cagnano ad Agropoli risolverebbe dei problemi fondamentali per noi l'apertura e l'attivazione dell'aeroporto di Ponte Cagnano, l'alta velocità, sono quei servizi di cui oggi per pensare a uno sviluppo sia immediato che futuro non si può prescindere da questo, se avesse la bacchetta magica.